Il calendario di quest'anno segue Quelli degli anni precedenti, in particolare degli ultimi due anni In un percorso virtuale nell'arte Le direttrici che vengono proposte quest'anno sono quelle delle missioni internazionali dell'arma dei Carabinieri I compiti istituzionali dell'arma affiancate da immagini Dal forte contenuto emotivo e prospettico E anche dai forti contenuti in termini di valori Di promettenti artisti internazionali nei vari continenti del mondo Nato nel 1928 dopo l'interruzione post bellica dal 1945 al 1949 Il calendario tornò a vivere nel 1950 E da allora è stato puntuale interprete, con le sue tavole Delle vicende dei Carabinieri e della stessa storia d'Italia È un percorso che naturalmente viene illustrato su 12 tavole Ognuna per il mese di riferimento E affianca il contenuto artistico a quello istituzionale dell'arma dei Carabinieri Il calendario 2018 è incentrato sul tema I valori etici e sociali dell'arma Una rappresentazione visiva dell'essenza dell'istituzione Che rende omaggio l'attività svolta dall'arma in Italia e all'estero A favore di tanti paesi e delle loro forze di polizia L'arma dei Carabinieri è immersa nel tessuto sociale, nella cittadinanza Da sempre si lavora nel quotidiano proprio per offrire E cercare di farlo nel modo più convinto e naturalmente efficace possibile Un servizio ai cittadini in termini di sicurezza Ma anche di aiuto nelle piccole cose Ma anche nelle grandi necessità Abbiamo visto in un passaggio che viene ritratto un militare dell'arma Che aiuta una persona durante un disastro purtroppo naturale Come ultimamente abbiamo spesso visto anche nel nostro paese L'impegno per l'ambiente La sicurezza personale e sociale La tutela delle categorie deboli L'integrazione multiculturale Il valore della tradizione La libertà di espressione La libertà di riunione La cooperazione internazionale La tutela del patrimonio culturale La tutela dei minori L'ordinata convivenza civile L'identità culturale 12 temi per 12 mesi dell'anno Che 12 affermati pittori contemporanei Ognuno preveniente da un'area del mondo Dove l'arma dei carabinieri è intervenuta Oppure ha avviato collaborazioni con le forze locali Hanno espresso e raffigurato Hanno espresso e raffigurato Hanno espresso e raffigurato